Allo stadio Bernicchi di Città di Castello arriva l'ennesima delusione per il Sansepolcro salvezza diretta, sempre più difficile con la sconfitta rimediata dai ragazzi di Michele Tardioli contro il Villa Biagio, la formazione bianconera deve ora guardare di raggiungere i play-out dato che la salvezza diretta sembra sempre più una chimera. I bianconeri di Tardioli incredibilmente hanno giocato meglio quando sono rimasti in dieci dopo l'espulsione affrettata di Bianchini, reo di essersi beccato due cartellini gialli nel giro di appena un minuto. Dopo quell'espulsione di Bianchini arrivano le due reti vincenti dei ragazzi del mister Cocciari, le reti al 32esimo dopo che Bianchini si è beccato il doppio giallo punizione per gli ospiti con Davide che respinge di pugno, la palla va a sbattere sulla testa di Curti che sigla l'1-0. Al 42esimo il raddoppio, dalla lunga distanza ci prova Rondoni, il suo tiro passa tra una selva di gambe insaccandosi alle spalle del portiere del Sansepolcro Davide per il 2-0. La ripresa si apre con il Sansepolcro che si getta in avanti con tanto cuore, al 58esimo c'è il fallo di mano di Cenerini in aria e calcio di rigore conseguente che Mortaro trasforma. La rimbaggio finale del Sansepolcro non scaturisce gli esiti sperati per la bravura del portiere Vitale e il Villabiaggio chiude con la vittoria per 2-1. Mister Cocciari oggi è un Villabiaggio a due facce, benissimo, il primo tempo è chiuso con due quali di vantaggio con l'uomo in più, male il secondo tempo in cui si doveva gestire meglio il pallone di questa superioreità. Detto quasi giustissimo. Il problema è che noi abbiamo tanti ragazzi che si allenano in maniera molto discontinua e quindi siamo calati a livello fisico in maniera importante con tre o quattro elementi e in più a disposizione c'è sempre ragazzi che chi la febbre, chi si è allenato pochissimo, quindi eravamo in una situazione molto molto particolare, però c'era da elogiare il primo tempo perché abbiamo fatto molto bene, poi al secondo come hai detto c'era da gestire un po' la partita ma c'era da dare anche dei meriti al Sansepolcro perché dopo il rigore ci hanno creduto, noi ripeto siamo un po' calati per tanti motivi che sapevamo potevamo un attimino pagare e questo è successo, però alla fine penso che tre punti siano meritati. Ecco ed era fondamentale, mister, ritrovare i tre punti dopo la sconfitta di domenica. Sì, era molto importante, anche se per l'ennesima volta, ripeto, noi siamo partiti per salvarsi quindi ho sentito sempre i discorsi che hanno un pochino forviato quelle che sono le nostre situazioni vere, adesso siamo quasi arrivati alla meta e siamo molto contenti, però altre cose che sentiamo non sono mai esistite, noi abbiamo fatto, pensavamo di salvarci nelle 38 giornate sperando di riuscirci, in realtà ci siamo salvati dopo 20, questo però deve essere un merito, non deve diventare un demerito perché sennò alla fine uno può pensare che c'è gente che vuole un pochino rompere le scatole più che dare meriti a dei ragazzi che si meritano tutto quello che hanno ottenuto. Mister Tardioli, non è bastato un grandissimo secondo tempo di grande cuore, di grande voglia per rimediare a quegli episodi del primo che hanno condizionato poi la gara? Sì, come al solito ci siamo fatti del male da soli, siamo presi un'espulsione, abbiamo preso subito il gol dell'1-0 e anche il secondo gol l'abbiamo preso su una palla da ferma dove l'inferiorità numerica conta ancora di meno, però ecco come hai detto te bisogna guardare avanti e di positivo abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, un uomo in meno, ci abbiamo messo tutto, il cuore, l'anima e siamo riusciti ad accorciare le distanze e in alcune circostanze anche di cercare di pareggiare la partita. Ripartiamo da questo per raggiungere il nostro risultato, il nostro obiettivo, che il nostro obiettivo è la salvezza anche all'ultima giornata, è ovvio. Mister Vore, da te anche una breve analisi tattica, ha rischiato il Sansepolco con il 4-3 anche per l'assenza di Mencagli e Catacchini, come ha visto la squadra da questo punto di visto? No, ma la squadra diciamo che le azioni che avevamo preparato per creare difficoltà con i tagli dietro le spalle, Simone è stato bravissimo a dare delle palle sia a Massai che a Alagia, l'abbiamo fatto bene, è ovvio, dopo quando ti trovi in 10 devi ricambiare modulo e tutto quello che ha provato è saltato, però nonostante tutto a differenza delle altre volte ci abbiamo messo un pochettino d'anima e un po' di cuore, abbiamo fatto almeno una partita dignitosa. L'importante Mister è anche di aver ritrovato il gol che mancava da diversi minuti, però altri due gol subiti. Sì, vabbè, i due gol subiti, come ti ho detto, secondo me ce li siamo fatti da soli, dunque c'è poco da fare, bisogna migliorare, bisogna migliorare tanto e c'è poco tempo, c'è poco tempo, questo è un dato di fatto, però noi come sempre ci alleneremo e ce la metteremo tutta per raggiungere il nostro obiettivo. È ovvio, le difficoltà ogni partita è una partita in meno, però ancora c'è la possibilità, ce ne sono tante di partite e dunque renderemo cara la pelle, come sempre, con l'atteggiamento sicuramente del secondo tempo che è stato un atteggiamento diverso.